Adesso sto bene, sto cercando di aiutare la squadra a vincere le partite. Stiamo facendo bene per il momento. Fisicamente mi sento al 100%. Noi cercheremo decisamente di continuare a vincere e costruire il nostro valore nel tentativo di arrivare ai play-off nella migliore posizione possibile. Proveremo quindi a migliorarci. Affronteremo le squadre più forti ed è un momento importante della stagione per capire che tipo di squadra siamo, che carattere abbiamo e quindi capiremo che tipo di squadra siamo realmente. A Milano, quando ho giocato lì, abbiamo avuto una buona stagione. Abbiamo perso solo quattro partite in stagione regolare, raggiungendo la top 16 di Euroleague. Purtroppo non abbiamo vinto e quando giochi in un club come Milano, che ha molto più budget rispetto alle altre, devi vincere. Ma adesso mi preoccupo di ciò che devo fare per Avellino, nel tentativo di farla crescere più di quanto posso fare per aiutarla a vincere. Contro Reggio Emilia è stato un successo importante per la squadra, ma soprattutto per me, perché avevo bisogno di una performance di questo genere, soprattutto per sbloccarmi mentalmente. Avevamo bisogno di una gara per migliorare la nostra fiducia. Ascolto cosa da dire. Io sono un giocatore più giovane e rispetto lui e le sue parole. Distribuisce consigli agli altri e da leader dà le sue opinioni. L'obiettivo in Coppa Italia è cercare di vincere come tutte le partecipanti e daremo tutto per ottenere un risultato vincente. L'obiettivo è possibile, ma stiamo cercando di andare in là e vincere.